A questo lato adesso esibizione dei baby atleti della Virtus Castelfrentano e del Manopello qua a Fattori dell'Aquila a conclusione della giornata di raduno delle scuole calcio e i ragazzi di tutte le scuole calcio dell'Abruzzo si esibiscono a termine della giornata. La Virtus Castelfrentano indossa la classica divisa giallorossa mentre i ragazzi del Manopello hanno la classica divisa, hanno la divisa bianca a strisce rosse di fascia. Calcio d'ancolo a favore, ecco azione! Ah niente!